ciao ciao come ti chiami massimo e vieni da sanremo da sanremo è bello della posta io buono se hai fatto benissimo io mi chiamo mimo e sono il tuo videoman si si fa tutto lui è pagato per quello capito rilassati esatto tu hai pagato partiziamo ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vieni qua. Aspetta, vieni qua. Vai avanti, gira diverso. Fai così, sì.